Oggi andiamo a vedere una lezione che si intitola Nessun altro Dio, del 16 luglio 1968. L'argomento di stasera è Non c'è altro Dio. Lo trovate nel primo comandamento, nel libro dell'Esodo, il ventesimo capitolo. Io sono il Signore tuo Dio. Ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avrai altri dei davanti a me. Esodo 22, seguito dal secondo. Non fare alcuna immagine, né sulla terra, né nei cieli, né sotto il mare. Esodo 24, nessuna immagine. Ora, se io sento la parola Dio, mi faccio un'immagine? Se tu senti la parola Gesù, ti fai un'immagine? Se hai un'immagine diversa da Io sono, stai violando il comandamento. Io sono il Signore. Beh, questo potrebbe essere tradotto Io sono, Io sono. Perché la parola tradotta è il Signore, è la stessa parola che è E quando verrò dal popolo di Israele e dirò loro che il Dio dei loro padri mi ha mandato ed essi mi chiederanno qual è il suo nome, che cosa dirò? Di loro, Io sono ti ha mandato. Questo è il mio nome per sempre e questo sarà conosciuto per tutte le generazioni. Esodo 3, 13, 16 Il mio nome Io sono. Quindi non fatemi alcuna immagine scolpita. Esodo 20, 4 E coloro che conoscono il tuo nome ripongono la loro fiducia in te. Ora, questi sono i comandamenti della scrittura. Se ci credo veramente, non posso rivolgermi a nessun altro. Non posso rivolgermi a nient'altro al mondo se non a Dio. E Dio si è fatto me, affinché io posso diventare Dio. Quindi il nucleo stesso del mio essere è Io sono. Prima di dire Io sono un uomo, devo dire Io sono. Prima di dire che sono ricco, povero, conosciuto, sconosciuto, prima di qualificarlo, condizionarlo, metterci sopra qualcosa, devo nominarlo. Quel nucleo Dio. Questo è Io sono. Perché mi chiamate Signore e non fate le cose che dico? Luca 6, 46 Ora, Egli non pone alcun limite a questo potere, nessuno. Quello che desiderate, quando pregate, credete di averlo ricevuto e lo avrete. Marco 11, 24 Non dice che è un bene o un male per te. Sta interamente all'uomo fare la scelta. So quello che voglio? Beh, se so quello che voglio e ci credo e mi fido completamente di Dio come della mia meravigliosa immaginazione umana, allora dovrei cambiare il mio mondo esterno per conformarmi alla mia attività immaginale. Così la liberazione di Israele dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, è la tua meravigliosa immaginazione umana liberata dai fatti della natura. Si vedono i fatti, si sentono i fatti, ma non mi piacciono. Allora qui quando dice dei fatti della natura si sta parlando dei nostri cinque sensi e cioè di quello che ci dice, guarda quello che vedi, hai sentito quello che hai detto, hai toccato, vedi che non... insomma quello che i nostri sensi ci inchiodano. Quindi si vedono i fatti, si sentono i fatti, ma non mi piacciono. Ammetto che devo avere avuto qualcosa a che fare con l'esternare le cose che non mi piacciono. Così nella mia ignoranza ho immaginato ogni tipo di cose. Pensavo di poterla fare franca, pensavo che nessuno mi vedesse, che nessuno sapesse cosa stessi immaginando quando sono solo, perché non c'è nessuno in giro. Non parlo, non parlo con nessuno, non lo scrivo, è un segreto, è il mio segreto. È tutta la mia immaginazione, quindi non posso concedermi. Passa qualcuno per strada e dico, oh che faccia, l'ho detto dentro di me, e poi ho sentito qualche notizia di qualcun altro, e sono stato invidioso di quello che ho sentito. E l'ho sentito, e sono diventato invidioso di quello che ho sentito. È la mia meravigliosa attività immaginativa. Non riesco a riconoscere il mio raccolto quando appare nel mio mondo, ma non posso negare che si sia una legge che sostiene ogni fenomeno nel mondo. Perciò, non lasciatevi ingannare, perché Dio non si fa prendere in giro. Come l'uomo semina, così raccoglierà. Galati 6,7 e io sto seminando mattina, mezzogiorno e sera in base a ciò che intrattengo nella mia immaginazione. Perché questo è Cristo Gesù. L'uomo è tutta immaginazione. E Dio è l'uomo ed esiste in noi, e noi in Lui. E il corpo eterno dell'uomo è la sua immaginazione. E questo è Gesù stesso. E noi siamo le sue membra, uno con il corpo di Gesù. E questa è la nostra meravigliosa immaginazione umana. E un giorno si risveglierà come un fiore. E vedremo cosa abbiamo fatto nella nostra oscurità, nella nostra ignoranza. Nessuna condanna, perché abbiamo pagato il prezzo mentre abbiamo agito incautamente. Quindi non c'è nessun giudizio finale quando tu e io siamo portati davanti a qualche essere esterno per essere giudicati per quello che abbiamo fatto. stiamo pagando il prezzo mattina, mezzogiorno e sera mentre camminiamo sulla terra. Leggo questa cosa non bella, leggo questa cosa bella e poi improvvisamente ne faccio esperienza. L'ho piantato io. Nessun Dio dall'esterno me l'ha dato in risposta a una preghiera. L'ha fatto la mia attività immaginaria. Nessuno mi ha ricompensato. Nessuna ricompensa. L'ho semplicemente messa in moto. L'ho fatto io, saggiamente o meno. L'ho fatto volente o nolente, ma l'ho fatto. E così, tutto entra nel mio mondo, perché io, nei miei momenti di attività immaginale, li metto in moto. Quindi, se sono veramente libero, nel senso che sono stato liberato dall'Egitto, significa che la mia immaginazione è così controllata e io sono uno, tutt'uno con essa. Che mi rifiuto di accettare i fatti della vita se non sono conformi ai ideali di cui voglio godere nel mio mondo. Allora sento parlare di un mio amico e disoccupato. Bene, sono davvero libero? Se sono davvero libero dalla tirania d'Egitto, libero dalla casa della schiavitù, avendo sentito ciò che ho sentito, lo rappresento ora a me stesso come impiegato con profitto. Ora i fatti lo negano, ma io resto fedele alla mia supposizione come se fosse vera. Fiducioso che l'immaginazione crea la realtà e quindi se persisto nella mia supposizione essa si indurisce in fatto. Ebbene, avendolo fatto e dimostrando più e più volte, avendo condiviso ciò che ho scoperto con altri per vederli farlo più e più volte, allora si diventa indifferente a ciò che pensano gli altri. Se c'è la prova di una cosa ad avere un'importanza a quello che pensano gli altri, se ti dicono che sei stupido a credere che un atto immaginario si trasformi in fatto, vuoi dire che non hai niente in questo mondo? Ma niente e tu osi sopporre che hai, non solo che hai, ma che hai quello che vuoi e che gli altri lo condividono con te e sanno che lo hai e dormirai questa notte a stomaco vuoto nella convinzione di essere stato ben nutrito? Che dormiate questa notte come se le cose fossero come desiderate che siano? Quando ogni fatto della vita durante il giorno lo nega? Beh, questo è ciò che siamo chiamati a fare. Siamo chiamati a fidarci di Lui, a mettere la nostra fiducia in Lui. Chi è Lui? La mia meravigliosa immaginazione umana. Non dico la sua immaginazione, non la sua. Io sono e il suo nome e la prima persona presente non ero, non sarò, ma sono. Ora, il mondo cristiano parlerà di Gesù Cristo ma nel momento in cui si dice Gesù Cristo si fa un'immagine dipinta dalle chiese del mondo dopo due mila anni in violazione del comandamento non fate alcuna immagine scolpita di me. Non c'è una descrizione personale di Gesù nelle scritture, nessuna. Si può scrivere la biografia di un uomo, qualsiasi uomo e non descrivere in qualche modo il suo aspetto? Si può scrivere la biografia di Lincoln o del defunto presidente Kennedy e non dire qualcosa sul suo aspetto? Non si può fare eppure è quel grande del mondo e non una parola del suo essere personale menzionata nella scrittura? Era alto? Era basso? O so che ci sono sacerdoti nel mondo che vi diranno che era un metro e mezzo? Hanno trovato una specie di sudario? Hanno appena trovato le ossa di Pietro? E tutte queste sciocchezze nel mondo questo non è la scrittura? La scrittura è un dramma psicologico è sopranaturale completamente sopranaturale non ha niente a che fare con nessuna persona che ha camminato sulla faccia di questa terra e la realtà vivente del mondo è Cristo Gesù ma Cristo Gesù è la vostra meravigliosa immaginazione umana quando dite io sono quello è lui ora naturalmente il cristiano dirà il Signore Gesù Cristo è il mio Signore cioè esterno a se stesso e lo adora ma voi direte Adonai o Jehovah l'Adonai Elohim è il mio Dio qualcosa di esterno nonostante il comandamento ed entrambi sono totalmente ignari del fatto che Jehovah e Gesù sono uno e cos'è uno? Io sono io sono questa è l'unità dell'universo bene se posso entrare nella testa di qualcuno e lui ci crede completamente e confida in questo ed è disposto a morire piuttosto che rivolgersi a un falso Dio non può fallire direte beh allora quando accadrà perché l'ho immaginato ebbene ecco le parole di Abacoc la visione ha la sua ora stabilita matura fiorisce se è lungo allora aspetta perché è sicuro e non tarderà è come piantare un seme bene non disotteratelo ogni giorno ma piantatelo con la fiducia in sé contiene i poteri di esternare il contenuto di se stesso sia esso un chico di grano o lo sperma di un uomo porterà alla luce qualsiasi cosa sia contenuta in esso e così tutte le cose producono secondo il loro genere quindi se oso soppore di essere l'uomo che voglio essere e lo definisco non lo modifico non lo limito sogno il tipo di persona che voglio essere ora non è necessario che sia basato sulla supposizione di un altro o su qualche raccomandazione di un altro perché se ne discuto con un altro lui dirà beh sai dovresti avere soldi devo avere soldi per vivere sì e pagare il mondo di Cesare ma non è questo il mio obiettivo qui recentemente un uomo del sud è morto lasciando una fortuna personale di 700 milioni di dollari avete sentito il nome il suo nome è Alison abbiamo il suo teatro giù al sud un bel teatro ci sono entrato qualcosa di nuovo nel music center possiede la più grande compagnia di assicurazione con un patrimonio che supera il mezzo miliardo dei dollari ha tutte le azioni sono tutte sue le ha lasciate a sua moglie la sua seconda moglie da pochi anni e a suo figlio dalla prima moglie ora quell'uomo pensava che se non avessi lavorato 18 ore al giorno per fare soldi non saresti stato buono non contava la sua gente per anni non ha mai avuto contatti con i dirigenti delle diverse filiali rimaneva a casa non voleva contatto personale era distaccato solo soldi 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 e soldi beh ti dico che non li ha portati con sé è così dare tutta la tua vita alla costruzione di qualcosa che non puoi portare con te la ami così tanto e non puoi portarla ecco perché ci viene detto cerca prima il regno dei cieli e tutte queste cose vi saranno aggiunte Matteo 6 33 perché il padre vostro sa che avete bisogno di tutte queste cose Luca 12 30 ma mettete il vostro cuore completamente su una meta che sarà presa con voi perciò ci viene detto riponi pienamente la tua speranza nella grazia che ti verrà alla rivelazione di Gesù Cristo se qualcuno stasera mi chiedesse di consigliarlo su ciò che dovrebbe desiderare in questo mondo citerei questo passo riponi pienamente la tua speranza nella grazia che ti verrà alla rivelazione lo svellamento di Cristo il vostro meraviglioso io sono Cristo è Dio padre beh se lì è Dio padre deve avere un figlio non mi si venga a dire che lui è un padre e non c'è un figlio che testimoni la sua paternità allora è davvero un padre è davvero in me sì lui è in te ed è un padre bene dove è detto nella scrittura che Gesù Cristo è un padre ha nominato suo figlio sì l'ha fatto se uno legge attentamente allora si rivolse alla folla e disse che cosa pensate del Cristo di chi è figlio Matteo 22 42 poiché il nuovo testamento inizia con l'affermazione questo è il libro della genealogia di Gesù Cristo il figlio di Davide Matteo 1 1 perciò risposero il figlio di Davide Matteo 22 42 ed egli fece allora una domanda molto semplice perché dunque Davide nello spirito lo chiama Signore se Davide lo ha chiamato così Signore come può essere figlio di Davide Matteo 22 43 bene ogni figlio del mondo antico si riferiva a suo padre come mio Signore ora cronologicamente Davide visse mille anni prima dell'avvenuto beh come può essere suo figlio perché non è una storia secolare prima del mondo io ero prima di Abramo io ero Giovanni 8 58 e quando il mondo cesserà di essere io sono perciò non è qualcosa che è entrato in questo spazio temporale in un certo momento egli era prima che tutto il vasto mondo fosse ed era un padre prima che il mondo fosse e chi è questo figlio Davide Davide è la somma di tutta l'umanità per il mondo ebraico la storia consiste in tutte le generazioni di uomini e in tutte le esperienze fuse in un unico tutto e questo tutto si chiama eternità e l'eternità per il mondo ebraico è olam nella scrittura Davide si trova davanti al re e per prima cosa chiede al suo logotenente Abner di chi è figlio quel giovane primo samuele 17 55 ascoltate attentamente la frase non è preoccupato per il ragazzo è preoccupato per il padre del ragazzo ha detto Abner di chi è figlio quel giovane e il logotenente rispose come tu vivi o re non posso dirlo disse chiedi di chi è figlio quel giovane allora Davide si presentò davanti al re tenendo in mano la testa del gigante Golia e il re gli chiese di chi sei figlio giovanoto ed egli rispose sono il figlio del servo IS il betlemita samuele 17 55 58 ascoltate in ogni caso sta chiedendo del padre quindi la risposta è io sono il figlio di IS cioè io sono il figlio di colui il cui nome è io sono ecco chi sono il figlio di colui il cui nome è io sono io sono è il nome di Dio da sempre per sempre così ti dice che è Dio perché Davide lo chiama padre ora se Cristo è diventato me come insegna la scrittura non vi rendete conto che Gesù Cristo è in voi se lui è in me allora anche io devo essere un padre perché lui è un padre e se io sono Cristo devo essere il padre dello stesso figlio non può esserci un altro figlio non un Davide ma il Davide beh Davide arriva e c'è una gloriosa esplosione nella tua testa e quando tutto viene giù e la polvere si deposita qui davanti a te c'è questo glorioso ragazzo come è descritto nel libro di Samuele qui c'è Davide e lui ti chiama padre e non c'è incertezza su questa relazione tu sei il padre e Davide il figlio non c'è altro modo per sapere che tu sei il Signore Gesù Cristo che è Geova a meno che il suo unico figlio non ti chiami padre ed è così che la scrittura si dispiega in noi e tutti faranno questa esperienza quindi non avere altro Dio se non Dio non rivolgetevi a nessun Dio esterno non esistono sono falsi dei se c'è un Cristo diverso da quello che croce fisso in noi che effettivamente è risorto e continua a risorgere in noi quel Cristo è un falso Cristo qualsiasi insegnamento di un Dio esterno è un falso Dio non c'è nessun Dio esterno non fatevi alcuna immagine scolpita Esodo 24 così non avere altro Dio ci viene chiesto nella scrittura di metterlo in pratica perché io devo adempiere la scrittura la scrittura deve essere adempiuta in me l'unico scopo dell'essere è quello di adempiere la scrittura perché tutto nel mio mondo sta per svanire se io possedessi la terra la lascerei dietro di me e alla fine tutto svanirà non lascerà traccia di essere mai stato presente ma questa realtà non posso lasciarla quindi posso portare con me solo quella parte della scrittura che ho adempiuto io mi fermo qui e domani partiamo da qui perché questa lezione è parecchio grande quindi la seconda parte lo sentiamo domani grazie a tutti a domani ciao grazie